Coach Marco Crespi, è arrivato il Contagio Azzurro anche al Tagliercio, di che cosa si tratta e com'è andata questa mattinata? Il Contagio Azzurro è un'occasione di un allenamento, il commissario tecnico nazionale che va a casa dei club che lavorano quotidianamente con le giocatrici di interesse nazionale e si svolge un allenamento di tecnica individuale, tattica del fondamentale, perché? Uno proprio per stabilire un contatto dove migliorare la capacità di ascolto, due per lavorare su qualche dettaglio che poi sarà utile quando ci si ritroverà in occasione dei raduni per le manifestazioni ufficiali e tre perché credo che collaborare con il capo allenatore, in questo caso con Andrea Liberalotto, al miglioramento individuale dei giocatrici sia una missione, una missione che poi porta risultati. Quattro giocatrici dell'Umana Reier, una controllata dall'Umana Reier come penna, più dotto come riserva. Nelle convocazioni ha tinto a piene mani all'Euro Granata. Penso che il programma dell'Umana Reier Venezia sia un programma riferimento del basket femminile italiano, riferimento per capacità di reclutamento e capacità poi di migliorare le giocatrici.